questa ricetta flash una torta davvero deliziosa cacao quark con un ripieno alla banana è semplicissima la ricetta nei commenti nella descrizione questa base della torta è veramente semplice da fare qui abbiamo il quark che uniremo un po con latte e andremo a realizzare questa torta davvero semplice beh è la versione della torta tedesca che si chiama la tana della talpa proprio perché ricorda questo buco che si può trovare nei giardini quindi si crea questo la base praticamente si va a togliere una parte proprio che sarà riempita di quest'ottimo quark eventualmente potete usare la panna o la ricotta così vedete andiamo a sbriciolare anche questa qui che sarà per la decorazione tutta la parte di sopra all'interno metteremo anche la banana fresca è una ricetta molto semplice da realizzare molto buona un sapore anche per fare una ricettina un po diversa dal solito quindi vedete mettiamo la banana così tagliata a fettine perfetto e adesso andiamo ad aggiungere anche il quark mi raccomando segui ricette flash dappertutto e mi raccomando lascia un bel like ci vediamo con tantissime ricette tantissime novità una volta messo qui il quark possiamo andare a completare con la decorazione ecco qui tante belle e soffici briciole di pan di spagna al cacao un po di cacao la ricetta è pronta e ci vediamo alla prossima ricette flash cucina in un lampo ricette deliziosissime semplice un dolce da provare assolutamente alla prossima